La campagna elettorale a Sant'Arpino sta entrando nel vivo, i toni sono sempre più accesi, sia della Versana che Boerio hanno lanciato una serie di critiche nei suoi confronti, incoerenza, altre cose, insomma, toni pesantissimi. Lei che cosa replica? Io ho detto già durante la nostra campagna elettorale che è opportuno tirare una linea e guardare al futuro, pensare alla progettazione della città nella sua complessità, le polemiche le stiamo lasciando da parte per pensare a cosa vogliono i cittadini e cosa vogliamo realizzare noi per il Paese. Questo è il nostro taglio che ci stiamo dando, quindi le polemiche le lasciamo al passato e cerchiamo di evitarle. Io in settimana ho fatto vari appelli ai nostri amici ma avversari politici, ho detto che forse era il caso di abbassare i toni e confrontarci sulla progettualità del futuro della città. Uno dei temi principali al centro del suo programma è l'ambiente. Lei in concreto che cosa propone? Noi abbiamo detto addirittura che per quanto riguarda l'ambiente è necessario raggiungere gli obiettivi previsti per legge, cioè almeno il 65%. Io credo che questo lo possiamo fare già nei primi 100 giorni della nostra, speriamo, amministrazione con un processo di informazione e controllo del territorio. Tra l'altro io sono progettista di alcuni interventi per la raccolta differenziata in diversi comuni e abbiamo introdotto, oltre alla comunicazione che è in default di partenza per tutti i comuni, abbiamo introdotto dei sistemi telematici di controllo. Addirittura riusciamo a controllare in real time cosa accade sul territorio attraverso un sistema di riferimento ad una sala operativa dove tutti i dati vengono a confluire. C'è un operatore che coordina e controlla e smista i vari interventi e i vari segnali agli operatori che stanno sul territorio. Quindi un intervento complesso ma al tempo stesso semplice soprattutto perché io opero nel settore, conosco bene gli ambienti, conosco bene i sistemi. In alcuni comuni abbiamo già raggiunto più del 70% di raccolta differenziata. Comuni abbastanza difficili con oltre 40.000 abitanti, insomma c'è da lavorare ma ci sono gli strumenti, le capacità e le conoscenze per farlo. L'ultimo comizio della lista Sant'Arpino al centro si è tenuto in località Starza, la zona della ferrovia. Lei ha lanciato una serie di proposte, le può illustrare? Io credo che per far crescere il territorio dobbiamo partire dalla consapevolezza che tutte le aree, anche limitrofe, quartieri periferici quali Castellone, località Paradiso e Starza hanno delle peculiarità, delle specificità, quindi hanno degli elementi intorno ai quali far crescere la città. Ho detto che per quanto riguarda Castellone abbiamo l'area archeologica, quindi è una vocazione naturale dell'area. Per Paradiso l'ho definita la cittadella dell'infanzia, costruendo Asino Unito per la scuola elementare. Per la località Starza abbiamo invece il campo sportivo, quindi creare la cittadella dello sport. Ovviamente nel fare questo è necessario delocalizzare l'isola ecologica, delocalizzare l'area mercato e creare un'area attrezzata a supporto dell'asse ferroviario che potrebbe essere un parcheggio autorizzato e gestito da una cooperativa di giovani. Torniamo sul tema del lavoro e quindi potremmo creare opportunità di lavoro per i nostri giovani santarpinesi. Tra l'altro ho detto, parlando della linea ferroviaria, che era importante riqualificare l'area anche ridisegnando la quinta scenica. Io l'ho definita una quinta da palcoscenico, da teatro, che riguarda la murazione, cioè il muro perimetrale della linea ferroviaria in collaborazione con l'università, creando un concorso di idee e investendo su questa riqualificazione, partendo appunto da questa facciata della linea ferroviaria.